E lanciamo la sfida comunque a tutti gli imprenditori, ci sono ancora alcuni spazi disponibili, scommettete anche perché economicamente il prezzo d'affitto è relativamente basso per essere in via Carducci, scommettete come noi sul mercato coperto perché potrete avere delle grosse soddisfazioni. Il comune di Trieste non molla, la rivitalizzazione del mercato coperto di via Carducci resta uno degli impegni maggiori dell'assessorato al commercio, da tempo impegnato in un'opera di svecchiamento della struttura che sta dando ottimi frutti, è il caso di dirlo, soprattutto dopo gli interventi per scongiurare la minaccia rappresentata dai Colombi. In effetti il piano strada della struttura si presenta piuttosto animato e colorato, anche se i problemi non mancano, ma secondo quanto raccontato stamani da un utente all'assessore Giorgi, hanno a che fare più con lo scarso senso civico di Certuni. C'è ancora da impegnarsi per quel che riguarda il primo piano. In questi giorni uno dei cinque nuovi concessionari che a giorni si installeranno con le proprie attività sta allestendo il proprio spazio. Abbiamo appena terminato la revisione degli spazi al primo piano, per cui 19 spazi di cui 5 già assegnati, quindi ancora alcuni disponibili, oltre alle attività che già al primo piano funzionano e che stanno dando nuova vita a questo storico mercato. Ma l'intenzione di Palazzo Sipario per il mercato coperto va ben oltre. L'idea è quella di utilizzarlo, come del resto già è stato fatto sporadicamente, come luogo dove tenere spettacoli o altre iniziative. In tal senso non è escluso che già da quest'estate si possa utilizzare una zona particolarmente pregiata. Nelle prossime settimane ci sarà la prova di carico del tetto, dove se tutto va bene pensiamo di poter ospitare dei momenti di cultura, di musica, di enogastronomia.